Lo avevamo preannunciato, ci stiamo per occupare di wedding e se siete alle prese con l'organizzazione oppure se siete invitati prossimamente dovete seguire questo spazio perché sta per arrivare la Coco Chanel del wedding qui in Puglia, ma non solo, è in arrivo lei, Rwm. In studio do il benvenuto, dopo averla incontrata e conosciuta Promessi Sposi, ha mantenuto la promessa, è arrivata anche qui. Elisabetta D'Ambrogio, ben arrivata. Ciao Andrea, ciao Maricla, ben trovati. Grazie. Abbiamo 1900 curiosità, però qui in studio ti dicevo non ci siamo ancora occupati del wedding. Una brevissima introduzione della tua biografia. Bene, bene, sì, io mi occupo di wedding, sì, è una definizione che mi è stata data Coco Chanel del wedding. Devo dire che molte volte ho preso anche degli eventi per questo perché evidentemente gli sposi si sono ritrovati un po' in questa veste. Comunque mi occupo di eventi da circa 12-13 anni. Ovviamente ho avuto le fasi di formazione non ultime quelle del mio maestro Angelo Garini, con il quale condivido spesso momenti di formazione anche qui in Puglia. Ho già organizzato per tre volte delle masterclass o dei corsi laboratori creativo, quindi sono felice di poter continuare a dare formazione anche a chi ha voglia di entrare a far parte di questo mondo e anche di un certo circuito perché la formazione, come dico molto spesso, è quella che ti mette in certi circuiti e ti permette di capire quelle che sono le dinamiche che ci competono. Spesso purtroppo chi non si forma fa diventare questa una professione additata e mal vista. Mentre io combatto sempre la formazione e il confronto anche con chi ha fatto da maestro. Il tuo lavoro è in continua evoluzione, sei reduce da un evento alquanto particolare. Dove sei stata? So a Venezia? Sì, infatti Andrea è stato veramente un evento spettacolare a Venezia. Il congresso LGBTQ è organizzato veramente in pochissimo tempo. Fabio Marciano, che è uno degli organizzatori insieme a Sandra Santoro, insomma veramente da tramite c'è stato anche Angelo Garini, il mio maestro. Lui mi ha detto, Elisabetta, guarda c'è questo evento interessantissimo, quindi se te ne vuoi occupare anche tu in Puglia, visto che hai tantissime conoscenze e contatti. Ecco, ti stiamo vedendo in una gallery in questo evento. Infatti con Angelo. Anche delle amiche comune, le sorelle Pompadour che salutiamo. Eh, infatti, le salutiamo caramente perché sono state fantastiche e felicissime di partecipare a questo evento, veramente sensazionale. Cioè ci ha dato dei momenti di formazione anche qui, perché ci siamo confrontati con tanti colleghi e professionisti internazionali americani, della Grecia, spagnoli, del Portogallo e anche colleghi di tutta Italia che si occupano di questo segmento LGBTQ come matrimoni già da tempo. Quindi è stato un evento veramente spettacolare. E la Puglia, devo dire, ha risposto molto, molto bene con la partecipazione. Nonostante i tempi sono stati stretti e quindi ci è mancato veramente, diciamo, un approfondimento maggiore. Però hanno partecipato delle location importanti qui in Puglia, la chiusa di Chietri, tenuta Pinto. Insomma, portiamo avanti anche la bandiera Rainbow del matrimonio qui in Puglia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono stati anche diversi fornitori che hanno partecipato con dei gadget come Frantoio d'Orazio, come Confetti Mucci. Dei simboli del Made in Puglia, veramente riconosciuti nel mondo. Sì, le porcellane di Giuseppe Fasano, che ovviamente hanno lasciato tutti a bocca aperta perché abbiamo avuto anche dei ricci proprio del segnaposto al Gran Galà. E poi sì, con dei favor che abbiamo fatto trovare, ci sono stati dei nodetti che sono dei tarallini che vorrebbero sostituire i confetti quando diciamo che è un'azienda qui pugliese a Palo del Colle. Un'alternativa quindi ai confetti. Un'alternativa ai confetti. Loro sì, hanno ideato questi nodetti che sono insomma piaciuti molto anche perché subito li hanno degustati ovviamente. Quindi diciamo la Puglia ha avuto un bel riscontro diciamo in presenza con queste location appunto che abbiamo menzionato. Con me solo due colleghe, Viola Tarantino e Marita Campanella e soprattutto c'è stata anche la partecipazione di Puglia a promozione. Diciamo istituzionalmente eravamo presenti anche come regione. quindi diciamo che è stata una bella realtà e è stato talmente condiviso e bello che si è già chiesto insomma la seconda edizione del congresso legistro. Ci farai sapere tutto in anteprima. Sicuramente cercheremo di essere un po' tutti in anticipo. Vengo in auto con voi, vengo a fare il viaggio con voi. Sicuramente, sicuramente ti portiamo. Marita, vengo da te per le tue curiosità. Grazie, grazie. Allora, parlavamo prima io e Andrea della questione social. Quindi molto spesso alcune coppie preferiscono non pubblicare delle proprie foto attraverso i social. Come si gestiscono situazioni del genere? Sì, beh, in questi casi bisogna sottostare perché contrattualmente la coppia ci dà il permesso o non ci dà il permesso. Quindi quando la coppia non vuole entrare nei social, non vuole avere insomma pubblicità bisogna sottostare, non si può fare nulla. Nonostante si sia fatto per questo evento tanto lavoro, diciamo allestimenti e quant'altro però non si può fare altro. Però le teniamo nel cuore comunque perché sono degli eventi che ovviamente hanno fatto parte. O magari gli sposi forniscono una data di pubblicazione, nel senso, ok, potete fare le foto ma le potete pubblicare dopo un po'. Sì, anche, alcune volte sì, di non spoilerare subito quello che è stato l'evento, la tipologia di allestimento, l'abito stesso della sposa, anche questo sì, sì, sì. Alcune volte è successo anche questo, oppure alcune volte è successo anche di un numero limitato di foto o di non pubblicare i bambini, per esempio, perché spesso sono presenti per accompagnare la sposa e quindi ci è stato chiesto di non pubblicare le foto dei bambini, ovviamente, per ovvie ragioni. Elisabetta, perdonami, qual è stato il matrimonio più stravagante che hai organizzato? Cioè, a livello di tempo. Qui non ci basta lo spazio, Elisabetta ne ha fatte di cotti, di crude. Quello più stravagante che ti viene in mente? Ma guarda, quello stravagante può essere perché il racconto di questa coppia che si è incontrata a Milano, ma erano tutti e due pugliesi, si sono detti sì in un ristorante giapponese, quindi abbiamo organizzato tutto il matrimonio con i fiori di ciliegio e i fiori di mandorlo per ricreare questa situazione. Il discorso è che a settembre, quando loro si sposavano, non c'erano né fiori di ciliegio e né fiori di mandorlo, per cui abbiamo ricreato, con una progettazione ovviamente fatta insieme al fiorista, sui rami secchi di mandorlo abbiamo sistemato garofani che fungevano appunto da fiori di ciliegio o fiori di mandorlo, quindi è stato un effetto veramente bello e apprezzato molto e ha dato l'idea di questa unione veramente strana, perché erano dello stesso paese mai conosciuti e si sono incontrati in ufficio a Milano e si sono sposati in un ristorante giapponese. No, si sono detti sì in un ristorante giapponese, però hanno dovuto sposarsi comunque in primavera, a settembre si sono sposati e quindi non c'erano né mandorli né ciliegi, era questo infatti il discorso di aver progettato con il fiorista una tipologia di fiore che non esisteva, quindi lo abbiamo creato da rami secchi di mandorlo, abbiamo unito dei garofani che aperti danno quest'idea di fiore o di mandorlo o di ciliegio e con la tonalità ovviamente giusta siamo riusciti a dare l'idea e il tema a questo matrimonio. Bello. Sei un simbolo della nostra Puglia, del Wedding Made in Puglia, ma lavori ovunque. Come siamo messi in Basilicata? Beh, anche la Basilicata è veramente una regione che è da scoprire direi, ed è da valutare, dove ci sono tantissime location molto belle. Infatti poco tempo fa ho organizzato con un po' di colleghe la visita al castello di San Basilio, per esempio, una location molto bella dove appunto si possono svolgere tranquillamente dei ricevimenti top, ma ce ne sono altre, tenuta Visconti, Masseria Cardillo che si sta proponendo maggiormente adesso nel mondo del wedding e quindi infatti è iniziata una specie di collaborazione anche con Giuvida Catering, che saluto anche Davide e quindi... Anche la Basilicata c'è come meta del wedding. Ma sabato sono stata ad Alvino per un festival sul food, che l'hanno, insomma, organizzato tutto in Alvino 1884, che è un antico mulino ristrutturato, ma è una location veramente da sogno, con piscina, insomma, spazi veramente belli, quindi... Vediamo una clip. Allora, questa è una clip sugli allestimenti? Sì, bellissimi, qui sono al lavoro con Bruna Rifino Corbelle di Altamura, che saluto caramente, ciao Bruna, con cui insomma collaboro tantissimo, abbiamo fatto tanti eventi la scorsa stagione, tra noi c'è un feeling veramente... A testo. Ci intendiamo senza nemmeno parlarci, sembra strano però è così e quindi sì, sono degli allestimenti per un evento dove abbiamo montato tensostruttura, dove c'è stata anche una giostra per i bambini. Ho visto, bellissima. Sì, 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 luoghi di pitti ad Altamura, era questa qui, una location anche quella, per esempio siamo diciamo a ridosso fra la Basilicata e la Puglia, ma anche luoghi di pitti, veramente una location, a parte proprio i proprietari che sono di una dolcezza unica, lo dico perché da poco abbiamo terminato il corso di Angelo Garini sabato scorso e veramente sono stati eccellenti, infatti hanno detto ad Angelo che ogni qualvolta in Puglia quella è casa loro, possono ritenere insomma casa sua. Beh, se lo merita è benvenuto veramente ovunque qui in Puglia. E quindi sì, sì. Voglio aprire un ultimo capitolo con te, quello dei matrimoni VIP, abbiamo preparato una mini gallery, anche qui nell'ambito dei matrimoni VIP i social, i media hanno un po' spento la magia, l'attesa, stiamo vedendo per esempio i matrimoni della Royal Family, super chiacchierati, non c'è più la vera attesa per il matrimonio, come? Beh, ma anche perché molte volte non vogliono nemmeno essere, ecco qui ritorniamo nel discorso, non vogliono nemmeno tanta pubblicità, non vogliono essere ripresi, quindi molte volte non fanno sapere dove si sposano. Ci sono anche delle esclusive con dei giornali. Sì, sì, perché poi appunto gioca il ruolo dei giornali e quindi naturalmente le notizie vengono tutte in un secondo momento, però è ovvio che noi cerchiamo sempre di cogliere, di spoilerare insomma... Ahia, questa fa male, questa fa male. Ilariettofti. Beh sì, loro si sono ormai separati. Diciamo che è un matrimonio che non ha avuto un lieto fine. Però era calzante all'argomento perché questo è stato un matrimonio in diretta televisiva, narrato H24 da Sky TG. Quale matrimonio dei VIP viene più preso ad esempio per un wedding planner, nel senso come richieste? Qui abbiamo i Beckham con un cambio d'abito alquanto particolare, Viola. Bello. Sì. No, in che senso non... Una coppia, ti porta delle foto, reference... Come riferimento? Beh sì, è ovvio che... Ecco, se ci saranno i matrimoni quest'anno, le coppie del prossimo anno cercheranno l'abito di quella VIP o i fiori di quell'altra, insomma, si cerca sempre di imitare, insomma... Si trae ancora ispirazione dai matrimoni delle celebrità. Beh sì, perché alla fine sono sempre, voglio dire, una visione più in, più top, per cui uno cerca sempre di imitare, di, insomma, far assomigliare il proprio matrimonio. Elisabetta, perdonami, in dieci anni, anzi in dodici, di esperienza che hai fatto nel settore wedding, noti una sorta di cambiamento, comunque una riduzione di richieste, è tanto tangibile o comunque c'è sempre più o meno un'alterazione stabile? Ma no, in Puglia penso che, anzi, vabbè, diciamo che in Puglia siamo aiutati anche da tutti i matrimoni esteri che vengono celebrati qui in Puglia, però penso che, anzi, l'anno dopo la pandemia molte coppie, è vero tante si sono separate, ma tante hanno colto proprio questo divieto e hanno deciso di sposarsi, perché sembrava appunto che non lo potessero fare più, non appena c'è tempo ci sposiamo, infatti è stato un anno proprio rivoluzionario da nonno, anche quest'anno comunque si prevede un anno abbastanza ricco di eventi e di matrimoni. Infatti ti abbiamo avuto qui, per fortuna nostra, ma poi parte veramente una stagione super impegnativa per te, io ti prego di comunicarci tutte le novità in anteprima e in esclusiva, perché questo spazio merita dieci ore di tempo che purtroppo non abbiamo. Ti auguriamo tutto il meglio per l'imminente stagione, grazie per essere passata da Telebari Social Night. Grazie, grazie a voi. Prometti? Sicuramente sì. Le news in anteprima? Assolutamente sì, assolutamente sì, prometti. Grazie davvero Elisabetta. Grazie mille Elisabetta e a voi per averci seguito, noi torniamo domani puntualissimi. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. Siti Moda, seguici sulla nostra pagina Instagram Siti Moda Italia oppure su Facebook. Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Acmei.